addio al sorriso di andrea il funerale di andrea vianello celebrato arrivà sulle note di insieme il canto degli scout intonato da alcuni vecchi amici con fastoletto azzurro è stato dato l'ultimo saluto ad andrea vianello l'uomo di 65 anni deceduto nei giorni scorsi dopo una lunga malattia tantissime le persone nonostante il caldo torrido hanno voluto stringersi attorno alla vedova elena e alla figlia silvia così pure i fratelli flavio e antonio non tutte le persone hanno trovato posti in cattedrale posti ridotti per l'enorme anticovide ancora in vigore molte sono rimaste sul sagrato dove la croce verde ha allestito alcuni gazebo con le sedie presente in forma ufficiale il sindaco amar barbierato con la fascia tricolore così pure con la fascia tricolore laura modena vice sindaco di ariano sue comune di residenza il rito delle esequie è stato celebrato da don gabriele fantinati parroco di ariano e don fabio padovan parroco di rivà dove andrea risiedeva da oltre 30 anni con la famiglia andrea vianello è stato ricordato come una sorgente di amore simpatia serenità e solidarietà e la sua arma vincente era il sorriso attivissimo nel volontariato e in diverse forme di associazionismo e per un breve periodo in politica facendo il consigliere comunale ad ariano aveva lanciato un giornaletto locale e liston che nella critica voleva coinvolgere il maggior numero di persone ad impegnarsi per la comunità